ai settimi europei di nuoto di nostra figlia un'emozione particolare perché sono in casa è il sogno da bambina facevo nuoto quando ero bambina e ad essere qui oggi con le mie figlie è bellissimo tantissime proprio mi sento casato quasi essersi là dentro la piscina davo l'ansia il foro italico è una delle piscine più belle mai viste quindi straordinario sentire l'inno cantato al foro italico è una bella emozione fantastico continuavano a gridare applaudire la sentivamo anche da sott'acqua tutto il calore ne abbiamo dato il massimo è una delle location più belle al mondo quindi è veramente bello proprio in questa piscina abbiamo visto il record del mondo dei cento stile libero uomini che regge ancora di cielo ho visto la pellegrini nei 400 stile con record del mondo quindi la prima donna sotto quattro minuti quella credo che sia stata una bella impressione una bella emozione si per me è stata un'esperienza bellissima davvero già stare in casa senti il pubblico da fuori il voato e da dentro ti carichi tantissimo cioè noi eravamo un cuore solo per me la vittoria dice come la vittoria della quadarella sicuramente il sincro squadra ha fatto veramente emozionare ma sicuramente portare la bandiera ma vincere una medaglia in casa con tutto questo pubblico che ci ha accolto e ci ha fatto il tifo è veramente un'emozione unica ogni gara è un episodio che mi porto nel cuore when you see the the really great nations perform in front of your eyes when you can see them live it's just amazing